Dopo le polemiche degli ultimi dieci giorni e il silenzio stampa imposto dal presidente Paris, l'Avezzano risponde sul campo con una prestazione d'orgoglio e al De Mar si impone il pari 1-1 ad una ostia mare riduce da un ottimo momento di forma. La squadra di Tortora non ha regalato nulla all'undici laziale, che in caso di vittoria avrebbe strizzato l'occhio anche al primo posto. L'Avezzano si presenta all'appuntamento senza, fra gli altri, Vittai e Serrago e soprattutto Menn e Tabacco, difesa da inventare con Assisi e Tariuk centrali, Tridente, Marolda, Leto, Padovani. Nelle file dell'ostia mare, squalificati Roberti e Martorelli, c'è Attili a ridosso del centravanti Vano. Inizio di gara soporifero nel quale Tortora perde Padovani per questo contrasto dopo pochi minuti. L'attaccante stringe i denti ma dopo il ventesimo alza a bandiera bianca, dentro Pollino. Poco dopo si fa notare Vano sugli sviluppi di un corner ma non inquadra la porta. Al ventiquattresimo primo tiro in porta dei padroni di casa con Deramo, tutto facile per 4-8. L'estremo Lidenza deve superarsi però al ventisettesimo, lancio di Sassarini per Marolda che elude il fuorigioco e incrocia. 4-8 ci arriva e salva in angolo. L'ostia mare si sveglia nel finale di primo tempo e colleziona occasioni importanti. Al quarantunesimo Coco sfonda a sinistra e centra, ci provano prima Attili e poi Vano ma la difesa marsicana fa muro. Sul successivo schema da calcio d'angolo Vano anticipa tutti, vuole a colpo sicuro ma Sassarini salva sulla linea. Quarantatresimo da Stolfo in buca per il solito Vano che a tu per tuo con Lewandowski centra il palo, poi la palla si impenna e Attili manca il tap in a porta vuota. Così si va all'intervallo sullo 0-0. Ad inizio ripresa lo stiamare sembra voler forzare i ritmi, Lewandowski mette i brividi ai suoi tifosi ma Attili non ne approfitta. E allora è Lavezano a passare con un'azione di rimessa, triangolo Marolda, Leto Marolda, sinistro potente del centravanti che non dà scampo all'estremo laziale. Lo stiamare subisce il colpo, Lavezano rischia poco e al trentatresimo va vicino al raddoppio quando il neo entrato di Genova libera col tacco Leto. Quattrotto si oppone alla bene meglio, Leto torna poi in possesso della sfera e va giù in area per Politi, Dilecce, Simulazione e dunque Cartelino Giallo. Sventato il pericolo lo stiamare si getta la caccia del pari, il tiro di Bellini è alto al trentasettesimo ma al quarantesimo l'1-1 si materializza quando Colantoni crossa dalla sinistra e il neo entrato Olivetti incorna la perfezione, nulla da fare per Lewandowski. Prima del triplice fischio l'ultimo sussulto è della Vezano con la sassata di Genova di poco alta. Mister avete sprecato delle opportunità alla fine del primo tempo e poi la partita vi si è complicata? Sì, il calcio è questo, quando non si sfruttano le occasioni di Gabbia poi è una mezza disattenzione nostra, il nostro errore ha permesso il gol dell'Avezzano e poi siamo stati bravi anche a pareggiare perché non era facile, chiaramente si poteva fare meglio soprattutto nel primo tempo però insomma ho visto una squadra ancora viva, siamo lì nel zona playoff e vogliamo arrivarci fino alla fine. Ecco, l'Avezzano non ha regalato nulla, forse avete un po' sbagliato l'approccio alla partita. Sì, diciamo che si poteva fare meglio come approccio, come inizio partita, tutto il primo tempo però queste sono partite un po' particolari che se non si affrontano nel modo giusto poi si incontrano difficoltà in campo che non è poi così facile poi aggiustare diciamo e su questo alla fine siamo stati bravi. C'è il rimpianto perché forse si poteva rientrare addirittura nella lotta per il primo posto comunque un punto che fa classifica per i playoff? C'è il rimpianto però con i 6 e con i 1 abbiamo valeggiato, prendiamo il punto abbiamo guadagnato un punto rispetto alla zona playoff diciamo e ricordiamoci sempre che non era il nostro obiettivo quindi i ragazzi stanno facendo un campionato importante, hanno fatto un campionato importante e va bene così. Grazie.